Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 20 settembre di Globus Television Venerdì, la pressione è moderata sulla nostra regione Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio Temperature massime che potranno toccare punte di 29 gradi, minime generalmente stazionarie Mari, Martirreno poco mosso, Marionio poco mosso, stretto di Sicilia poco mosso Grazie